Si informa, sentiamo! Scandinare lungo percorsi urbani nei parchi cittadini per mantenersi in forma, così l'iniziativa Metti in moto la salute proposta dalla Commissione per le Pari Fortunità della provincia di Assi, intende incentivare la pratica dell'esercizio fisico sia tra gli adulti che tra gli anziani, proponendo incontri settimanali di un'ora in cui effettuare esercizi mirati sotto il controllo attento di istruttori professionisti. Divisi in gruppi di 20, 25 persone, i partecipanti eseguiranno un'attività che alterna ad alcuni minuti di camminata a ritmo lento, una camminata leggermente accelerata ed esercizi semplici e sicuri volti ad aumentare l'equilibrio, potenziare la respirazione, migliorare l'elasticità delle articolazioni, di tutto circondati dal verde dei parchi cittadini. L'attività serve per dare un supporto a chi vuole camminare, a capire come deve farlo, quali sono le modalità, perché un conto è camminare semplicemente per fare una passeggiata, un conto è camminare per fare un esercizio per se stessi e per il proprio corpo. L'attività così strutturata si propone l'obiettivo di arrivare nel corso delle settimane a periodi di cammino veloce fino a un massimo di circa 30 minuti complessivi Per la natura degli esercizi, l'organizzazione consiglia scarti da ginnastica e abbigliamento comodo, come tutte le pente. I corsi partiranno da lunedì 4 ottobre e si esterranno verso le 10 del mattino, mentre le iscrizioni dovranno pervenire al numero 347 30 53 822 e 349 49 46 612. Metti in moto la salute, quindi un'iniziativa che punta a migliorare la forma fisica di chi è abituato a condurre una vita sedentaria, ma anche per tutti coloro che desiderano potenziare la propria rete di conoscenze, un modo per socializzare alternativo, lontano dal traffico e dalla routine della vita quotidiana.